Benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Maria Rosa Nudi e come di consueto ogni sabato estraggo due carte per voi. Questo è un video interattivo, ricordo che anche se lo vedete tra dieci anni o tra un anno la risposta è sempre valida. Oggi pomeriggio ho scelto le carte di Dora in Virtu, sulla sinistra sotto al bellissimo cristallo del lapislazolo c'è le risposte degli angeli di Dora in Virtu e sulla destra invece sotto all'avventurina verde sempre di Dora in Virtu terapia angelica. Vi invito come al solito a fare tre respiri profondi, a chiamare di fianco a voi le vostre guide, i maestri ascesi, Dio e l'arcangelo Michele e tutti gli arcangeli. Fate la domanda all'universo per cui volete avere risposta, fate tre respiri profondi, intanto io inizio dal mazzo di sinistra, dal cristallo del lapislazolo, fate dei respiri profondi, chiamati maestri e la carta che è arrivata è prendi una nuova direzione. Bellissima carta con un angelo che sembra che abbia quasi una bacchetta magica. la metto qua così la vedete e vi leggo la risposta che è arrivata. è arrivato il momento di dare una svolta alla tua vita. Forse le circostanze in cui ti trovi sembrano poco gratificanti o forse il tuo cuore insoddisfatto. Sai che il mondo ha di meglio in serbo per te, ma rimandi la decisione di seguire il consiglio dei tuoi angeli. Scegli consapevolmente di diventare la persona che sei destinata a essere. Crea un piano d'azione che ti porti nella direzione dello scopo divino della tua vita. incamminati subito verso un futuro più felice. Bene, gli angeli ci spronano a prendere una nuova direzione e a cambiare un pochino le cose. Adesso vado a mischiare le carte di teapia in gelca, l'avventurina verde. E sentiamo anche qui cosa ci vogliono consigliare gli angeli. Che bella carta! Arcangelo Michele, state lavorando a stretto contatto con questo potente arcangelo che vi protegge e vi guida in ogni situazione. Bellissima carta! E sentiamo cosa ci dice questa carta. Questa carta rappresenta una conferma di ciò che già sapete o sospettate. L'arcangelo Michele è accanto a voi in questo preciso istante. Gli arcangeli sono creatore enormi e potenti che vigilano sugli angeli custodi e su tutti gli abitanti della terra, qualunque sia il loro credo. Michele, il cui nome significa colui che è come Dio, è l'angelo che esoratica gli effetti della paura. Offre protezione a voi e ai vostri cari e infonde il suo coraggio e la sua energia qualora dobbiate intraprendere un'azione che vi intimorisce. Se state votando l'idea di apportare dei cambiamenti nella vostra vita, come cambiare lavoro o mettere fine a una relazione, chiedete a Michele di guidarvi e aiutarvi a procedere senza paura. Michele può aiutarvi anche a trovare il vostro scopo nella vita e può indicarvi i passi successivi da intraprendere sulla via dello spirito e della carriera. Azione Per accrescere il vostro coraggio e la vostra fiducia pronunciate con sincerità queste parole. Arcangelo Michele, io ti invoco. Porgimi la tua spada e il tuo scudo di pace e permettimi di fare affidamento sulla tua forza e sul tuo coraggio. Aiutami affinché io riesca a sentirmi al sicuro e protetto emotivamente, fisicamente, finanziariamente, energeticamente e spiritualmente. Grazie Wow, oggi abbiamo avuto anche la presenza dell'arcangelo Michele. Io vi ringrazio e vi auguro una bellissima settimana, una bellissima estate, un bellissimo agosto per chi parte per le vacanze e ci risentiamo prossimamente. Ciao e un abbraccio di luce a tutti. Ciao e un abbraccio.